bentornati sul canale buongiorno a tutti come va come va come la va io devo dire abbastanza bene diciamo che se vi può interessare attenzione è stato un periodo un po un po uggioso ecco però poi tornano queste belle giornate grigie e io sto meglio credo di avere scoperto di essere molto meteopatica si dice molto meteopatica quindi se ci sono ma chi mi segue bene o male lo sa se ci sono brutte giornate io sto meglio se ci sono belle giornate e io soprattutto devo andare a lavorare cioè mi viene una depressione era tanto per chiacchierare un pochettino allora oggi vi voglio parlare delle nuove tinte di Avon ne indosso una ho scelto due colorazioni Avon è un brand che non ne sento parlare molto su youtube non mi piace tantissimo a livello di make up diciamo che qualcosa mi ha mi è veramente piaciuta quando qualcosa mi piace voi come sapete io la condivido qui con voi su youtube devo dire che queste nuove tinte di Avon sono veramente straordinarie perché hanno una tenuta veramente incredibile allora io l'ho testata ho testato questa tinta la prima volta sono andata al lavoro quindi avevo il turno di pomeriggio quindi la misi alle 12 fino alle 9 ancora avevo la tinta con tutto che avevo ovviamente mangiato bevuto parlato sono veramente straordinarie come tenuta devo dire che mi hanno veramente impressionato allora vi lascio intanto al all'applicazione di questo colore e ci vediamo dopo e vi dico insomma altre cosine a dopo ciao Allora la tinta si presenta in questo scatolino, è la linea Mark, questa è la numero, si chiama Flushed, comunque questa è la numerazione per chi fosse interessato, comunque devo dire che è un rosso quasi corallo bello, anche per l'inverno devo dire che è stupendo. È proprio una patina, una patina molto strong, molto strong ma all'apparenza, ma in realtà idrata tantissimo le labbra, non sento per niente le labbra pesanti, anzi le sento molto idratate e veramente il risultato è questo effetto matte che io adoro. Avevo dimenticato di dirvi che oltre all'effetto matte ci sono anche questa linea di tinte, anche effetto lucido, ma io non le amo particolarmente, quindi mi son buttata su questo effetto matte che è straordinario. Allora questo è la tinta, il packaging, sono 7 ml di tinta e poi ho preso un'altra colorazione. Allora ho preso quest'altra colorazione, questo fragola, leggermente non troppo acceso, questo io mi dispiace ma non ce vedo perché sono ciecata, non ci posso fare niente. Allora di questo non vi ho fatto il tutorial, però ve lo faccio vedere comunque qui sulla mano e vi faccio, cioè vedete è proprio matte, una vernice incredibile, si appiccica subito sulla pelle in maniera incredibile, è straordinario. E poi anche il pennello, vedete è un pennello liscio, morbido, quasi gommoso ecco. Devo dire che sono dei prodotti veramente eccezionali e mi stanno piacendo veramente tantissimo. Il prezzo di queste tinte credo che si aggiri intorno alle 9 euro, 10 euro credo a tinta, comunque ne vale veramente tutto, tutti i soldi insomma che ci spendi comunque ci valgono veramente tanto. Presi queste tinte con un'offerta lancio, quindi due al prezzo di 11,90 euro, credo che ancora questa offerta sia valida ma non ne sono molto molto sicura. Se non avete una referente, una presentatrice Avon di fiducia, se volete vi posso lasciare il link qui sotto nell'info box della mia amica Simona, quindi per qualsiasi domanda, qualsiasi ordine potete benissimo chiedere alla mia amica Simona e dire che siete amiche di Gladys78. Vi posso prendere questo lusso? Niente, questo è tutto per quanto riguarda questa review, io vi mando un grosso bacio, mi raccomando se vi è piaciuto questo video mettete un like, vi iscrivete al canale, magari dite ma vediamo questa che cosa sa fare, non lo so, fate voi. Niente, io vi mando un grosso bacio e niente, alla prossima, ciao! Ciao!